Benvenuti a questo nuovo incontro di approfondimento scientifico organizzato in occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla. Oggi parliamo del coinvolgimento delle persone nei processi di ricerca e innovazione e della strategia proposta dal progetto europeo MultiArt. Ne parliamo quindi con la dottoressa Deborah Bertorello, International Project Manager e ricercatrice della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, responsabile delle attività del progetto MultiArt relative al coinvolgimento delle persone nei processi di ricerca e innovazione. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. La prima domanda che le faccio è se ci racconta l'intento del progetto MultiArt rispetto al tema del coinvolgimento delle persone nella ricerca. Buongiorno a tutti, sì certo. Diciamo che per MultiArt sono preziose le persone in grado di portare al tavolo della ricerca la loro esperienza di malattia, le persone disponibili a ricercare con tutti gli attori come connettere il bancone della ricerca alla vita reale. MultiArt ci indica come promuovere un coinvolgimento scientifico delle persone in tutte le fasi della ricerca e quindi sviluppare una scienza con la persona e misurarne l'impatto sugli aspetti che contano di più per loro, scienza della persona. Il progetto MultiArt ha prodotto delle linee guida per il coinvolgimento delle persone colpite da malattie neurologiche nei processi di ricerca e innovazione. Dottoressa ci può spiegare cosa si intende per scienza con la persona e scienza della persona? Allora, la scienza con la persona si verifica quando le persone affette da una patologia collaborano in modo significativo e attivo nella governance, nella definizione delle priorità, nella conduzione della ricerca, nonché nella condivisione e applicazione dei suoi risultati. Mentre la scienza della persona si verifica quando i dati delle persone con una patologia vengono utilizzati sia tramite contributo attivo che passivo per valutare l'impatto della ricerca. Specifico che con persone colpite da patologia, MultiArt intende le persone che hanno la malattia, ma anche i loro familiari ed assistenti. Dottoressa, ci può spiegare come MultiArt intende sviluppare la scienza con e della persona? Allora, per consentire la scienza con la persona e rendere le persone principali attori nelle iniziative di ricerca MultiStakeholder, MultiArt propone un modello di governance che mira ad un'efficace cooperazione di tutte le parti interessate. Il modello di governance MultiAct è composto da cinque criteri e una raccomandazione specifica del modello è quella di definire una struttura di governance efficace ed agile, con ruoli e responsabilità chiari per i partecipanti coinvolti, in base alla missione e all'agenda definita dall'iniziativa. MultiAct propone quindi una strategia per coinvolgere le persone nelle fasi di ricerca che sono rilevanti per soddisfare la missione di un'iniziativa MultiStakeholder, proponendo quindi un approccio guidato dalla missione. Una strategia questa che intende fornire strumenti rispetto al secondo e al terzo criterio del modello e pertanto favorire una governance partecipativa e fornire una metodologia di coinvolgimento delle persone chiara, efficace ed inclusiva. Per consentire invece la scienza della persona, MultiAct propone nuove metriche per la valutazione dei risultati della ricerca, a partire dall'agenda delle iniziative MultiStakeholder dedicata alla sclerosi multipla. Le metriche convenzionali relative alla dimensione di eccellenza saranno integrate con nuove misure relative alla dimensione di missione, efficacia, dimensione economica e finanziaria, efficienza e dimensione sociale. Ma la dimensione ultima e trasversale è la dimensione riportata dalla persona, la nostra capacità di misurare l'impatto della ricerca su quello che conta davvero per le persone. Lo sviluppo di questa scienza della persona è pertanto una priorità strategica nel progetto. Misurare l'impatto della ricerca in ambito salute sulla dimensione riportata dalla persona manterrà le persone coinvolte come stakeholder chiave nel processo. Dottoressa Bertorello, ci può raccontare come sono state create le linee guida del progetto MultiAct? Sì, le linee guida MultiAct sono state elaborate seguendo un processo di co-creazione basato sull'evidenza, che prevede diversi passaggi. In linea con le buone pratiche esistenti per lo sviluppo di linee guida, MultiAct ha effettuato e validato una serie di azioni, tra cui una revisione della letteratura, una ricerca approfondita sul web, una consultazione pubblica, nonché diverse interviste, sondaggi e revisioni da parte di esperti del settore e attori chiave. Le linee guida sono state inoltre revisionate dai comitati consultivi del progetto, tra cui un forum di pazienti, e rispondono ai requisiti del manuale per lo sviluppo di linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci può raccontare cosa prevede in dettaglio il percorso proposto nel progetto MultiAct? MultiAct propone un percorso, una roadmap, per il coinvolgimento delle persone nei processi di ricerca e innovazione. E questo percorso comprende quattro attività fondamentali. In primis, l'istituzione di un gruppo di lavoro dedicato al coinvolgimento della comunità di riferimento, che in inglese chiamiamo Engagement Coordination Team, con figure formate ad hoc. In secondo luogo, la selezione delle fasi di ricerca in cui il coinvolgimento delle persone è fondamentale e strumentale per soddisfare la missione e l'agenda dell'iniziativa. Terzo, lo sviluppo di un piano di coinvolgimento per ciascuna fase di ricerca identificata. E per finire, la selezione di indicatori per misurare il successo e l'efficacia di questo coinvolgimento. Per assicurare l'efficacia del percorso, è importante che le iniziative che adottano le linee guida MultiAct siano coerenti col modello e criteri di governance da esso proposti. Ci può dire ancora dove risiede il valore di coinvolgimento delle persone nella strategia proposta da MultiAct? Il valore e l'efficacia del coinvolgimento delle persone per il modello MultiAct risiede nel produrre risultati che contano per le persone, pur rimanendo sostenibili. La strategia MultiAct è diretta a coinvolgere le persone nel percorso di ricerca e innovazione in sette fasi, partendo dalla governance della ricerca, quindi scienza con la persona, e terminando con la valutazione del suo impatto sugli aspetti che contano di più per le persone, scienza della persona. Questo approccio è strumentale per soddisfare il raggiungimento di una missione che sia trasformativa. Il percorso di ricerca e innovazione in sette fasi prodotto da MultiAct è composto dalle fasi abbattimento delle barriere, priorità della ricerca, istituzioni come tati guida, disegno e pianificazione, esecuzione della ricerca, valutazione e diffusione alla comunità. Tale percorso si applica sia a livello di programma e governance che a livello di sviluppo progettuale ed in particolare nelle quattro fasi disegno e pianificazione, svolgimento dello studio, valutazione e diffusione alla comunità. La ringrazio dottoressa e invito tutti coloro che sono interessati ad andare sul sito dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla www.eism.it slash settimana SM perché dal 30 maggio a giornata mondiale SM per tutta la settimana successiva troveranno aggiornamenti quotidiani, interviste, news e focus. Arrivederci e grazie. 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 Grazie.